Senta Maria, mani e il Signore che con te prega per noi, e il Signore di Ponte, prega per noi e il Signore della nostra morte, amico. Senta Maria, vi ringrazio, Signore con te, Senta Maria, vi ringrazio, Signore con te. sei benedetta per le donne e benedetta per il frutto del tuo sé di Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, amén Ave Maria, fine di grazia, il Signore è con te sei benedetta per le donne e benedetta per il frutto del tuo sé di Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, amén gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo benedici per sempre, di secoli e di secoli, amén